Il professor Francesco Sabatini, membro onorario dell'Accademia della Crusca e professore merito dell'Università Roma 3, linguista e filologo, volto noto dei teleschermi per tenere ogni domenica mattina assieme a Tiberio Timperi all'interno di uno mattina in famiglia la rubrica pronto soccorso linguistico, è stato ospite questa mattina dei docenti dell'Istituto Gandilio di Fano. Di recente le sezioni B e C della scuola secondaria hanno adottato il testo del professore conosco la mia lingua che contiene il suo metodo educativo per rendere più agevole e accattivante lo studio della grammatica. Le scienze del linguaggio in Italia sono arrivate in ritardo, solo verso la fine del secolo scorso nelle università si è diffusa la linguistica e generale e applicata all'italiano, quindi molti docenti non hanno potuto frequentare nei corsi universitari questi studi, alcuni sì, altri hanno provveduto personalmente con corsi di aggiornamento e questo è uno dei compiti che alcuni di noi anziani avendo sperimentato questi nuovi modelli e avendo avuto contatti con la scuola ci dedichiamo a incontri con i docenti per guidarli nella lettura di manuali nuovi che stanno dando i loro risultati e questo si ricava soprattutto dalla risposta degli alunni che trovano più naturale, più rispondente al funzionamento delle loro capacità cognitive la spiegazione più scientifica dei meccanismi della lingua. Oltre a una lectio magistralis con il corpo docente dell'istituto, la giornata fanese del professor Sabatini si è conclusa con un incontro pubblico nel pomeriggio dove ha tenuto un intervento sul tema parlare e scrivere bene a che fare con la nostra vita nell'aulamania dell'istituto aperta per l'occasione al pubblico.